musica questo qui non ti ha anche fia, c'è anche cibo oh faccia accoppiare le pecore, faccia accoppiare e vai, carne di zombie qua capito Frabbo? vuoi venire a vedere Frabbo? vuoi venire a vedere Frabbo? faccia accoppiare le pecore vieni pure tu, Campa guarda come mi seguono vai Campa levati va io, dico eh non, cavolo non va ma porca miseria niente delusione non è andato prova ancora eh non è finito il grano due creeper oh mi sciarmon delle torce ma dai costante cosa vuoi? ciao Frabbo ti prese? grazie dai la igorale dov'è? ma è mica d'arte ma dov'è? ma dov'è? le cose di costante ma vedete mi prendo la sua mi prendo la sua io manco il cibo che il carbone faccia altro carbone eh beh c'è un ragno là c'è un creeper creeper qua mi hanno fatto esplodere non fa stronzate dico non vi c'è una cara non c'ero io con un creeper ti conosciamo dico non c'entra niente io quel creeper non stavo combattendo io la stai combattendo tu che fortuna acqua infinita ragazzi cacchio uno scheletro io muoio qua adesso scappa scappa c'è uno scheletro non ho più cibo non posso mangiare chi è ca pietra? io io dammela io no eh beh basta basta oh ce ne hai poche ehm ma anche all'ultimo letto e possiamo dormire la cesoria faccio dormire manca un gilano ma la uccidiamo con le pecore sennò o fai la cesoria no faccio la cesoria fatta fatta ok vai a pelare le pecore allora però io non uccido no no vai te perché a me mi ammazzano ho quattro cuori anche a me mi ammazzano ma eh io ho cinque cuori lo prendo da dietro lo scheletro ma state in casa vai invece di andare a ammazzarmi sono dei idioti boh morto lo scheletro ti copro io dico vai presa e presa abbiamo quattro di lana la grande un creeper dove dove? è stato stare da andiamo dico entra è uscita la pecora perchè è aperto? è come uscivo spingila spingila è una parola no la mucca vabbè fa niente chiudi così dai campa torna su no apre qui apre dove è la pecora dico dov'è la pecora dico è andata la pecora eh non lo so dove è andata ma tanto c'è un'altra isola con la pecora dico entra e fatti il letto che bisogna dormire se no il mio di letto c'era già quello di Fraboe c'era da farlo faccio una casa con le con le mie cose ma stai parlando con me? nooo spero morire devo fare la casa subito dove la faccio l'altro letto? c'è un pianerotto qua? ho fatto due stanze c'è due due corridoi che vanno fuori che puoi salire cioè puoi farci la casa benissimo e poi sto ancora andando su ma vabbè lo metto giù il letto eh aspetta che io devo andare un attimo ad aiutare l'alle va bene arrivo subito campo io dormo tutto verso la porta capito? adesso mi alzo però almeno ho accettato lo spawn eh? perchè? stavo dormendo ho detto che ho dormito per settare lo spawn comunque sto morendo eh anch'io mi tolgo tutto dall'inventario dormite oh dormi dico? eh ma Frabo? eh aspetta vado un attimo dal su ok attimo attimo ora prendo la spada e va due cuore oh ho fatto esplodere un creeper nell'acqua infatti non ho fatto danno ora prendo la spada però c'è l'enderman arrabbiato ho spada si ma non possiamo dormire qua e campa perchè? perchè? perchè a me quando mi rinasce la mattina mi rinasce fuori dall'albero boh ci sta vai è troppo piccolo dobbiamo fare un'altra casetta vabbè c'è ah ma dico su devi metterlo su perchè non ci esci qua? vado in cerca di cibo io vado eh io sto morendo ormai e manco qua muoio poso tutto mi basta un grano ancora mi basta uno di grano dai cresci eh vai ce l'ho ce l'ho qui però non mangio è meglio che muoio poso tutto mangiare adesso non ha senso cazzo un cuore muoio ma con onore buttandomi giù di qua addio ti sei suicidato? si ora sono con la vita piena però mi sa che dico devo andare mi ciao eh allora stacchiamo ancora 10 minuti va bene è tempo di è tempo di far vedere in diretta la mia morte se tu vedi il videocamp c'ho zero cosciotti e mezzo cuore di vita mezzo cuore però non mi scende non muoio secondo me fermo così c***o metto tutto non voglio suicidarmi io prendiamolo l'osso tentiamo un'impresa tentiamo un'impresa è ora che io muoio è bello che non mi scende più quello è strano sto all'interno così se muoio esplodono le cose e rimangono qua la metti nella cassa ho notato che nell'altra isola c'è un maiale bisognerebbe andare a vedere se ce ne sono due che li si fa copiare adesso lo metto tutto nella cassa io qua faccio una piccola miniera è una questione di minuti ragazzi morirò anche se non so il motivo per il quale non mi scendo ti vogliono far soffrire va bene sono masochisti mi prendo solo la spada e vado in giro solo con la spada metti che trovo cose da ammazzare mi tolgo pure l'armatura i pantaloni Braghi di cuoio certo che potevano mettere da un nome migliore pantaloni potevano mettere la miniera la faccio qua se c'è un buco là nocio lì c'è carne di zombie ora vado a prendere un po' di terra 8 di terra vediamo anche 15 di pietra devo arrivare di la devo arrivare come il fab è morto no non ci posso credere sei morto sono arrivato a prendere la carne di zombie e scomparsa ma da ma proprio adesso proprio adesso mi sta riducendo a mangiare carne di zombie figurati come sono messi male devo sperare che cada qualche zombie dall'albero ma proprio mamma mia ti ho preso un colpo per quel buco quante isole abbiamo esplorato finora? 3 3 questa quella iniziale queste 2 e quella con il ferro quella iniziale questa quella la dove sono andato io che c'era il primo pezzo di ferro e quest'altro dove hai trovato il ferro e il carbone c'ho 4 4 su più di 120 cioè sono messi bene devo dire siamo ancora indietro grano grano con uno però non ci faccio niente io sto piccolando in cerca di qualcosa di cibo sotto terra si ci sta maiali sotto suolo e torniamo nella nostra vecchia isola magari c'è qualcosa ma prima appoggio quello luna di grano che ho trovato perché se muoio almeno il grano ci salva ma quanto mi sta laggando mi apre dopo 2 ore la cassa ecco andiamo a vedere di là cosa c'è qua proprio cibo non ce n'è non c'è niente qua proprio non c'è niente qua proprio carbone, ferro, niente là c'è un'isola di fronte alla nostra vecchia isola ce n'è una con due pecore però nelle pecore ormai non servono più servono i maiali maiali e mucche ho trovato una cassa comunque dove è una cassa? cioè non l'ho trovato era la cassa quella vecchia dove c'erano gli oggetti l'ho presa non mica la lasciano la non so che fare io allora dico possiamo chiudere si aspetta raccolgo l'ultimo di grano e poi chiudiamo salutiamo solo io e te vabbè frabo è morto altri impegni lo trattengono poso il grano e poi torno su torno 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 su almeno ti fa vedere per mettere al sicuro i nostri fan che sei ancora vivo e che non sei una voce registrata che non sei un robot sì che non sei un robot anche perchè il robot sembro io il robot ti ho visto alla dieta cosa stai facendo? ah sto chiedendo chiudo qua ok quindi direi che è positiva come esperienza siamo morti quante volte non so boh però mi sembra bella sta mappa devo dire sì anche perchè è fermo magari esploreremo tutta chiudiamo con la vista sulla mucca e la pecora l'altra l'avevo persa ti ricordi che era uscita eh sì però dove? non lo so ma tanto che non ci interessa no e non lasciarli neanche uno perchè loro salgono boh e chiudiamo ciao a tutti ciao a tutti alla prossima una vista sul maiale là sulla nostra casa dell'albero ci vediamo alla prossima ragazzi da Dicorei 25 da Campa saluta Campa ciao e da Frappo facciamo la vocina noi ciao ragazzi ciao ragazzi ciao ragazzi ciao ciao ragazzi